La nostra famiglia ha iniziato la prima compravendita nel 1815 dei nostri formaggi. Abbiamo oltre 200 anni di storia e di padre in figlio ci siamo sempre tramandati la nostra tradizione se viene a visitarci noi mostriamo tutto quello che sono le fasi del processo produttivo tutte le nostre stanze tutti i nostri piccoli laboratori che ci permettono di fare un grana come si faceva negli anni 70 negli anni 60 e formaggi freschi rigorosamente fatti a mano non mettendo nessun tipo di conservante quando dico nessun tipo non c'è niente di artificiale nel nostro prodotto è sempre una sorpresa rincorrere la qualità sempre nonostante il cambio del tempo delle stagioni e anche degli umori di chi produce cercando sempre di fare il massimo della qualità e ogni forma viene letteralmente accarezzata Il segreto per fare dell'ottimo grana è produrre di meno, produrre meglio e stagionare con calma senza fretta Grazie a tutti Grazie a tutti.